Una delle chiavi ritenute utili a risolvere i problemi del porto di Pescara alle prese da anni con l'insabbiamento risiede nella vasca di Colmata, nata per contenere le sabbie di dragaggio e mai più svuotata dal 2014. La vasca, dopo i necessari tempi di sedimentazione dei materiali, se svuotata appunto, potrebbe essere utilizzata con regolarità, così come regolari in ogni porto fluviale che si rispetti dovrebbero essere dragaggio e manutenzione. Purtroppo, al momento, ed a un bel pezzo, i dragaggi non si fanno e la vasca resta piena. Peggio, non potrebbe andare e infatti, ed è notizia di ieri, i pescherecci sono tornati ad incagliarsi al punto che sono costretti ad utilizzare il porto di Ortona. Per tamponare l'emergenza, oggi Enzo Del Vecchio, dell'ufficio di presidenza della Giunta regionale, ha spiegato che si sta pensando all'intervento di una soffiante, forse presto in arrivo da San Benedetto. E intanto, il presidente vicario, Giovanni Lolli, ha scritto alla ministro Toninelli per sollecitare lo svuotamento della vasca di Colmata. Le disponibilità economiche ci sono, però mi vorrei allineare al pensiero sia del comandante che della rappresentanza della marineria, cioè utilizzare queste risorse con parsimonia per tutta la stagione invernale, perché sicuramente avremo ancora mareggiate e quindi dovremo intervenire perché le mareggiate accumuleranno ancora sabbia. Insomma, dobbiamo correre. Sono i tempi burocratici quelli che preoccupano di più. Purtroppo abbiamo la vasca di Colmata in possibilità da accumulare ulteriori sabbie che potrebbero pregiudicare la bontà di quelle esistenti e quindi dobbiamo operare attraverso un movimento in mare, attraverso una soffiante o un altro mezzo di questo genere in modo da assicurare quel canale di accesso e di uscita in sicurezza ai peschereggi. Siamo fortemente critici e non allineati alla posizione che ha il provveditorato alle opere pubbliche che ha ormai occupato quello spazio dal 2013. Proprio questa mattina il presidente Lolli ha scritto al ministro Toninelli per sollecitare un intervento rispetto al provveditorato alle opere pubbliche che non può più attendere ulteriormente allo svuotamento della vasca di Colmata. Il provveditorato la tiene ingessata da troppo tempo, ha usufruito ancora di un'ulteriore proroga. Noi abbiamo chiesto al ministro Toninelli che comunque tra gennaio e febbraio nei primi due mesi di quest'anno venga liberata in modo che nella stagione primaverile noi si possa operare per fare dragaggi consistenti e assicurare alla bisogna quella funzionalità di cui ha bisogno il porto di Pescara. Grazie.